E' bello a tutti e a tutti e a tutti qui qui per l'amica di 6.9issimo video In questo video vi faccio vedere un bellissimo accoping di 400.000 crediti Non so se 626.000 perché ho appena sprecato uno Però vabbè Sono preoccupato un pacchetto E' un po' Song e Forest Un po' Non ma Guardate un attimo che chiude la porta Ok ragazzi Egoin Portaci fortuna Egoin Ti fa trovare Bernard Qualcosa Qualcosa No E la serie Non ti sopporto Non ti sopporto Non ti sopporto Tutto Chi fa Niente E dove si trova Ci sono Adesso Attenzione Dai 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 Qualche Facciamo Ragazzi Chiude gli occhi Chiude gli occhi Sclippo Vediamo Che schifo Di merda Ok No che vecchietto Sei larsen Spero almeno Di trovare qualcuno In questo pacchetto Cioè in questi Voc opening Alaba Alaba porta Alaba porta Alaba Alaba Villa Domizia Marketti Chi trova Marketti Il pacchetto Io Ragazzi Lo sento Dai barba Award Dai barba Award Che schifo Di merda Michu 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 Ma chi cacchio Sei Michu Dio Dio Mi trova Da era Tozzo E tre anni Fa Manchi Si Aveva un bel pacchettino Mille crediti Meglio Di niente Meglio Di niente E tu Fa Bene Un bel pacchetto Pinilla Dai Dai Un bel giocatore Ma cunini Ok Di tutti i bei giocatori Un bel Argentone Che ho detto Non so Un bel Argentone Uscito Dai raga Me lo sento E lui Tiago Silva 90 E lui Tiago Silva 90 E lui Forest Forest Questa cazzo Che è Dai ragazzi Che adesso Arrivano pure A mille giocatori Cioè Mille cose Nel club Uh Bekovic Non male Va a vedere Bekovic Chi è questo Gigliotti Poi dove trova Tevex Faro vero Era If Cioè Molto Credo Che si Ma vabbè Tre anni fa Era If Ma vabbè Quando è nata Mi non era If Ivanic Non male Ivanic Non è proprio Quella pippa Ivanic È molto forte Dai Dai Raga Questi Sanno tutti I pacchetti Tipo Bah Un pacchetto Gratis La prima volta Che me lo danno Abbiamo un po' Nel pacchetto Gratis Trovo uno forte E mi ammazzo Perché non voglio Nessuno forte Nei pacchetti rari Che poi non Mi ho costo più Venti Ok No perché No perché No perché se passano Venti Vabbè Lasciamo Stagli Devo Sì Perché Vabbè Perché lo scarsa Di Bella Rappi Cioccolatoz No Dai Altri 300 mila crediti Dai Lo sento Lui Liff Diuff 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 Meglio di niente Stagli Vabbè ragazzi Vabbè ragazzi Quello scarto Non vi preoccupare Non tocchi Me ne frega Oh Eh Porca puttana Che pacchetto Raga Cioè Prima Sarebbe Tanto Adesso Non più Cioè Prima Sarebbe Il pacchetto De 7500 Un po' Di tempo fa 40 mila crediti 20 mila E 10 mila Perché pure Il nuovo Del coso Vabbò Pecca Oh Stiamo a trovare Giocatori corti Adesso Pure Young Dai FIFA FIFA Bella Rappi Di nuovo Tu Cazzo Ok Ragazzi Adesso Vado a scartarmi Il mio Occhiello Chiellini Che è successo Che mi sa Poi Siamo Che l'ochellini Che l'ochellini Che l'ochellini Così Me lo scarto Poi Vedete Poi Che l'info Il mio Qui scarto Scarto Oh Stupido Calmo Adesso Torniamo A apri Pacchetti Che l'achellini Stupiamo Che l'ochellini Bravo Bravo Concello Bravo 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 Coglione Bravo Coglione Ci fa trovare Melle Merdine Melle Merdine vuoteng un altro pacchetto gratis big money perché questo bellissimo di hogarth non schifo eliseo prima i pacchetti gratis non potevi ne scartare ne metti che schifo di pacchetto per quanto mi fanno schifo vi scarto costa cazzo ancora lui valeva 60-80 mila ma adesso non vale forse il pacchetto non deve avermi ripagato non è proprio una pippa di ecoposta aveva anche quello tozzo quello era la pippa dai azarte 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 si è fatta fare la merda pura bravo bravo coglione bravo guancello ma se si dice capo aspetta dai unif dai unif dai unif schifo la merda tutto merda 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 la pippa di ecoporto una fortuna dai dai alabino alabetto ti morisse tu nonno 200 mila crediti è andati nessun giocatore almeno unif che vale 10 mila crediti che passa con quello sono buttato dai 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 ancora alab e grisman ancora alab e grisman che porta un ranocchia che merda almeno unif un carissimo iif sempre alba è un volano dai 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 mi schifo tutti mi schifo porta sala della roma ve l'ho detto io l'ho visto che è da roma la vista che è un volano da roma per comprare il nuovo quindi l'ho detto ok da raga mi schifo tutti non so perché carino per portavoltina così almeno velocizzo pure un po il pacco che fa 666 ragazzi 666 non più il l'arm è un po' di vita un altro risultato la madre è m3 un po' di perché non è non è voglio essere sportese salve rai la settimana scorsa se mi ricordo vero si dai idiote cazzo cazzo è ai labbi e messi portano 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 a gas rai cannavaro leggenda leggenda cannavaro trovate leggenda cannavaro la leggenda del cannavaro peccato che non è il suo fratello però leggendo lui è una leggenda cannavaro eppure argentone di min eppure argentone min no ragazzi tulalano ragazzi non voglio tornare a casa di luce ce la possiamo fare messi in crisma portano con lo skip il fratello però ragazzi gli ultimi 100 mila crediti che può portare un if che almeno questo video non sarà proprio così merda dai un if cazzo un if i pacchetti sono proprio le cose più puttanate del sempre andiamo ancora aspettando vorrei aspettare perché i pacchetti da 7500 possono portarsi un cazzo e poi i prossimi giorni non ci sono internava oh 4 mila crediti porca puttana ma ragazzi i prossimi oltre ci saranno i pacchetti da 20.000 15.000 100.000 però un grandissimo pacco ragazzi ce la possiamo fare gridate dai viva merda ma che chi se tu caglieto chiudo gli occhi che scarto tutto noi lo scarto no no olson il arabi poi dove riluovebbe l'arabi dal messi porta messi messi porta messi messi porta messi lo portano non messi ma portano il barcelona ho guardia porta no guardo over portano un forward posto messi e cristiano cristiano e cristiano e cristiano e cristiano e morales almeno so giocato l'aria dai ragazzi in più 40.000 crediti che merda sto ok ragazzi ultimi 30 20 anzi 25 mila crediti spiegati tutti no 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 no